Bene, siamo in diretta. Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 26 marzo. Poi mi faccio la barba, vi giuro che non sarò così sciatto e disordinato nei prossimi giorni. La miglior vendetta è vivere bene. Quello che io consiglio a tutti quanti noi che siamo reclusi a casa, pensiamo col Talmud che la vera vendetta per questi resti domiciliari è vivere bene. Quindi mi scuso per questa barba che oggi ho un po' lunga. Però non volevo perdere tempo e fare subito la rassegna stampa. I giornali di oggi partono col Corriere e con Repubblica con due titoli più o meno simili anche se i numeri sono diversi. Dice il Corriere della Sera, altri 25 miliardi per la crisi e titola il Repubblica. Un bazooka da 50 miliardi. Sostanzialmente hanno messo insieme 25 dell'altra volta, con i 25 annunciati oggi sono 50 miliardi. Faccio una domanda a tutti quanti voi, imprenditori, artigiani, insomma a tutte le categorie produttive che ci sono, ma anche coloro che hanno la babysitter. Quanti di questi 50 miliardi, bazooka da 50 miliardi, sono arrivati nelle vostre tasche? Io temo zero. Ma non perché siano cattivi i nostri politici, lo sono anche alcuni, ma semplicemente perché noi siamo in un'Italia, basta leggere l'intervista di oggi di Tridico, presidente dell'Inps, me la vedremo dopo, in un'Italia mostruosa, in un'Italia che si è uccisa. Dopo Tangentopoli l'Italia è diventata un grande, gigantesco contenitore di burocrazia, per cui noi moriamo di burocrazia, e quando si fanno le cose semplici, immediate, basta vedere come danno i greci, gli inglesi, gli americani i soldi in questo momento, cosa vuol dire l'helicopter money. Noi abbiamo invece le regole, le burocrazie, i PIN, lo SPID, la PEC, tutte stronzate. Ma andiamo avanti, tanto voglio dire, ce ne sarà tempo durante questa rassegna stampa. Nel frattempo mi viene un dubbio, e lo faccio a tutti quanti noi, ed è il seguente, il seguente dubbio è questo, ma quella specie di bestia, di Minus Abens, di incapace, di uomo col capello peggiore del mio, di Donald Trump, come sempre è stato discusso da tutta quanta la stampa, oggi c'è un pezzo interessante su questo di Federico Rampini, che è critico, ma insomma, secondo me bisogna riconoscere a Federico Rampini onestà intellettuale. Beh, insomma, quella bestia di Trump, come mai ha fatto un aiuto da 2.000 miliardi? Voi direte, è una questione elettorale, perché a novembre si vota, perché è il solito, diciamo, questione elettorale, come se non ci fosse per tutti gli altri politici europei la questione elettorale. E vi chiedo, vi siete resi conto, oggi c'è scritto su Wall Street Journal, l'apertura del Wall Street Journal, che questi 2.000 miliardi, che ha messo a disposizione per l'economia 2.500 euro per ogni lavoratore, e sta prendendo anche gli shared economy, cioè gli Uber, i rider, sono tutti dentro, perché quello è un paese per cui la burocrazia è relativamente semplice rispetto alle nostre, se non sei a New York. Però comunque, la domanda è la seguente, la leggo nel pezzo di Rampini di oggi. Perché Donald Trump questi 2.000 miliardi li dà e nel giro di due giorni, due giorni viene approvato dal Congresso e oggi ci sarà il voto al Senato? E scusatemi, è stato approvato al Senato nel giro di due giorni e oggi al Congresso. Toc toc! Sapete com'è andato il voto al Senato? 96 a favore delle misure di Trump. Cioè, stiamo raccontando di una specie di Minus Abens, che dice una cosa banale, cioè riapriamo il prima possibile il paese, mentre qua noi diciamo chiudiamolo il prima possibile e chiudiamolo tutto, e nazionalizziamolo tutto. Anche gli imprenditori si sono messi a detti. Oggi ho letto qualcuno che diceva su MF nazionalizziamo il 10% del PIL. Sì, ma va benissimo. Cioè, in emergenza nazionalizziamo tutto, però forse prima preoccupiamoci di far funzionare le aziende e poi dopo vediamo quelle da salvare o no. Ma comunque, Trump, 96 voti contro, 0 contrari, e in due giorni passa nella più grande democrazia del mondo il voto. E tutti stanno con Trump, tranne il giornalista unico mondiale che lo vuole prendere per i fondelli. E noi siamo qua, che facciamo i DPCM e poi abbiamo il PIN. Oggi Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, che fa un'intervista al Sole 24 Ore, è una di quelle cose che voi capite che noi siamo destinati, Conte, Casalino, Tridico, a stare con questi qua. Lo dico con massimo rispetto per tutti quanti, però abbiate pazienza. Io vedo oggi su tutti quanti i giornali, compreso il giornale di Sallusti, che titolano Allarme pensioni, ma non perché sono pazzi, lo fa il Tempo, lo fa il giornale, lo fa la Verità, lo fa il Messaggero, lo fanno tutti i giornali. Sapete perché? Perché ieri Tridico dice che loro hanno la liquidità per pagare le pensioni per i prossimi due mesi. Due mesi. Oggi fa un'intervista al Sole 24 Ore e ci ripensa. Ieri aveva detto che per dare i 600 Euro alle partite IVA voleva fare il click day. Oggi, in un'intervista, dice che invece ci sarà una organizzazione attraverso il sito dell'Inps. Cioè questi non sanno di che cosa parlano. Questi non sono mai andati sul sito dell'Inps. Io ho della gente, ho mandato un pezzo sul sito nicolaporro.it di quello che succede per la configurazione del PIN dell'Inps. Ma lo sapete che ci sono tanti italiani che scrivono sulla zuppa di porro? Io ho massimo rispetto per quei dirigenti e quei funzionari dell'Inps che cercano di aiutare. Ce ne sono. E questa premessa la voglio fare perché ci sono persone perbene in tutte le organizzazioni financo all'Inps che cercano disperatamente di aiutarvi. Ma è il sistema che fa cagare. Ebbene, dicevo, c'è gente che mi ha scritto sul mio sito Ma Nicola, ma smettila di dire che è complicato avere il PIN dell'Inps metà per posta, metà per l'altro. È una procedura per la tua sicurezza. Oppure, fai lo speed! Allora, io vorrei spiegare ai miei amici della minchia di fare lo speed nelle campagne di Andria di Asolo di Venezia persone che hanno una cultura diversa rispetto a questi fenomeni che sono invece oggi leggo, tridico che dice una cosa che forse ci potevamo pensare una settimana fa nell'intervista del Sole 24 ore cioè il PIN che viene diviso per due una mezza parte per ottenere questi 100 euro devi avere un PIN a parte lo speed che è un'altra cosa metà ti viene dato immediatamente e l'altra metà invece ti veniva mandata a casa per posta per posta! l'Inps ti mandava metà PIN per casa a casa per posta con tutta una serie di complicazioni che ho scritto nel sito e dice ma adesso sai che fa? ve lo manda sul cellulare oh! per fortuna che li paghiamo bene questi dirigenti dell'Inps cioè noi abbiamo dovuto avere il problema del coronavirus per capire che ci potevano mandare sul cellulare il PIN come fanno tutti i social network tutte le aziende no! l'abbiamo dovuto capire e vedrete che sarà un casino comunque ma comunque lasciamo perdere l'intervista di Tredico sulle cose serie non sul PIN e non sullo SPID dice che invece c'è tutta la liquidità che vuole con le pensioni se lo dice Tredico andiamoci a affidare quindi l'allarme pensione c'è rischio patrimoniale quella che dice il giornale e che modestamente io da un po' di tempo sto dicendola ricordatevelo che così come vi hanno tolto le libertà e vi hanno messo agli arresti domiciliari per l'emergenza con altrettanta facilità potranno agire sui vostri diritti patrimoniali sicuro! perché in realtà i soldi non ci sono tra l'altro l'altro tema grande della giornata è la disunione europea l'Europa non esiste è morta è inutile che ci prendiamo per i fondelli possiamo far finta che questa finzione dell'Europa ci sia che è una finzione per far sì che la Germania continui a dire di essere l'Europa e non solo la Germania ma è morta oggi il messaggero dice il titolo del messaggero adesso ve lo leggo Europa a pezzi del messaggero non di un giornale anti-europeista Conte e Macron contro la Merkel perché su questa condivisione del rischio la Merkel non ci sta sfidano la Merkel Conte e Macron nel titolo della stampa oggi vedremo come andrà a finire e il giorno della Waterloo europea è il titolo di MF che non è un giornale sovranista è un giornale che ti dice scusatemi ma siete matti? ma come stiamo andando? tant'è che oggi i titoli e le borse stanno andando molto male perché mentre quello fa 2.000 miliardi la Fed fa tutto il resto l'Europa mi sembra che si stia dividendo sull'Eurobond poi quando sarà morta l'Europa perché gli olandesi un popolo così massimo rispetto per gli olandesi ma stanno rompendo sono la punta di diamante io voglio chiedere anche un'altra cosa ma noi possiamo veramente continuare io non parlo di interessi nazionali ma se gli interessi nazionali sono loro valgono e se gli interessi nazionali sono nostri non valgono ma figurati cioè questi renderanno anti-europeisti tutti gli europeisti perché come si sta comportando e come nel momento di difficoltà vostro umano personale io ne farei una cosa semplice nel momento vostra difficoltà personale vi rendete conto se vi capiterà mai nella vita amici e nemici e quando ti accorgi che ci sono delle persone che non sono più amiche è difficile starci nel condominio insieme li eviti è una cosa umana però ovviamente è difficile spiegarla ai nostri intellettuali del giornale unico tra l'altro chiedo un'altra cosa il problema è la divisione su questo corona bond prima questione ma io voglio sapere chi è quel deficiente quel cretino scusate diciamo la moderazione del mio linguaggio che si è inventata un'obbligazione che si chiama corona allora noi possiamo fare l'obbligazione della morte l'obbligazione della peste voi pensate che si possa dare un nome di una roba che sta uccidendo delle persone a un'obbligazione ma scusate è solo una questione nominale però io non la chiamerei corona bond perché chiamare un'obbligazione corona sei già che morta prima di iniziare ma comunque morirà in ogni caso bellissimo il titolo del daily news giornale popolare inglese che parla di quello che stanno facendo gli inglesi e io l'ho sempre pensato nella mia testa Dunkirk gli inglesi sono quelli che prendono le loro barchette e vanno a prendere i loro militari che sono rimasti senza possibilità di ritornare in patria e dice cita ovviamente Dunkirk ma cita grande guerra grande battaglia ma cita il fatto che il sistema nazionale inglese come fanno loro senza le cazzate della Consip dice abbiamo bisogno di 250.000 volontari per occuparsi dei malati non di coronavirus ma che possono essere pesanti per gli ospedali ne sono arrivate 500.000 di volontari 500.000 volontari perché loro ragionano così in maniera pragmatica noi ragioniamo con Borrelli noi ragioniamo con Arcuri noi ragioniamo con Tridico il PIN il Contropin cioè c'hai il mio conto corrente mi dai 600 euro avrai sbagliato perché avrai dato 600 euro a 10.000 persone che non se le meritavano chi se ne frega non è chiaro avrai preso tra i 500.000 volontari inglesi 10 tossicodipendenti 15 cretini sì sicuramente sì ma cerchi di risolvere il problema invece noi siamo qua come scrive bene Sallusti nel fondo di oggi del giornale che abbiamo bisogno di 227 leggi autorizzazioni e comma per cambiare un'azienda e farla diventare produttrice di mascherine questo è il fondo oggi di Sallusti e allora dici ma perché e lo scrivo modestamente io ed è uno di quei casi di un pezzo a cui ci ho pensato molto oggi ho scritto il pezzo su cosa penso di questa limitazione delle libertà e sul fatto che comunque si deve fare qualcosa per arginare questa emergenza lo scrivo sul giornale in prima pagina sul giornale e cerco di insomma far capire qual è la mia posizione più tardi ma più tardi intanto prendetevela sul giornale più tardi la troverete sul mio sito e fantastico nel frattempo vi segnano la seguente cosa a Scampia utilizzano i droni va bene per il controllo dei cittadini utilizzano i droni a Scampia a voi non vi viene il sangue al cervello che a Scampia utilizzano i droni oggi poi leggo sul Corriere del Mezzogiorno che De Luca il presidente della regione che vabbè sarà stato pure lui a dare l'utilizzo dei droni ma dice che qui abbiamo chiesto ventilatori abbiamo chiesto mascherine abbiamo chiesto tamponi non gli hanno dato nulla cioè cosa facciamo noi noi non ci occupiamo dei tamponi e delle mascherine ma ci occupiamo dei droni ma voi siete matti siete matti il problema non è un runner a Scampia il problema è che l'ospedale non ha i ventilatori o no ci possiamo arrivare a questo o non ci possiamo arrivare beh Draghi in una sua lettera al Financial Times dà la sua soluzione che detto da un europeista anche abbastanza tosto e cioè dice bisogna fare debito pubblico detto da Draghi che ha sempre combattuto il debito pubblico e le banche devono assumersi molta parte dei debiti privati insomma un altro che un bazooka quello di Draghi una posizione che gli dà un tema politico io non so se basti perché in realtà non basta la liquidità le aziende devono avere i mercati ma comunque ne discuteremo dopo bene Draghi cioè si faccia whatever it takes come disse nell'ultima crisi l'ha detto ora sull'economia reale la Meloni sul foglio e sul foglio intervistata sul foglio dice beh non sono d'accordo con Draghi presidente del consiglio così come lo dice il Movimento 5 Stelle perché c'è tutto un movimento che lo vorrebbe presidente del consiglio vi vorrei segnalare un'altra cosa che secondo me è molto interessante cioè il Sole 24 Ore dice che la meccanica che è una delle parti più importanti del nostro paese 175 miliardi di fatturato esportato la meccanica che dà da lavoro a 1,4 milioni di persone 1,4 milioni sono a casa il 93% delle imprese è chiuse e voi siete contenti tutti sono contenti perché dobbiamo arginare il virus poi voglio voglio chiedervi un'altra cosa secondo voi nell'accordo fatto ieri con i sindacati sapete che cosa hanno fatto questi geni? accordo fatto nei sindacati perché non è il primo in prima pagina sul Sole 24 Ore lo è sul Sole 24 Ore grazie al cielo sole grazie al cielo sole che sta facendo un grande lavoro in questo periodo non c'è sul Corriere della Sera non c'è sul Repubblica non c'è sul Messaggero hanno deciso di chiudere le aziende chiudere non possono lavorare che fanno le macchine per l'agricoltura e per l'industria alimentare chiaro? le macchine per l'agricoltura e per l'industria alimentare incluse le parti di ricambio devono essere chiuse quindi secondo voi fra un po' quando si romperanno le macchine le aziende agricole cosa faranno? nell'industria alimentare secondo voi funziona tutto perfettamente cioè noi chiudiamo un paese anche nei settori essenziali in ossequio alle regole che ci hanno chiesto i sindacati ovviamente qualcuno di voi potrà dire è per la salute mettetevi la mascherina cercate di trovarlo non fate lavorare le persone più vecchie non fate lavorare le persone che hanno patologie mettetele in cassa integrazione lavorate con la distanza ma chiudere un settore industriale vuol dire uccidere questo paese nel frattempo la Reuters di oggi ve lo segnalo che dice tutta scandalizzata in Francia solo è rimasta l'attività produttiva è al 65% cioè noi abbiamo chiuso il 95% del paese loro hanno chiuso il 30% del paese secondo voi domandina chi è che nei prossimi mesi riuscirà a riprendere più velocemente chi conquisterà quote di mercato chi fotterà il posto delle aziende italiane ma oggi non ce ne occupiamo perché non ce ne frega nulla non ce ne frega nulla io dico soltanto occupiamoci dell'emergenza sanitaria certo è quello che scrivo sul giornale ma occupiamoci dell'emergenza economica se no moriamo di fame ma insomma stiamo ad aspettare che i nostri facciano l'accordo sul sul bond gli aiuti alle babysitter altra cosa del sole 24 ore fantastica arriveranno da lunedì riusciremo a capire quali sono gli aiuti cioè il decreto è stato fatto 20 giorni fa e dopo 20 giorni capiremo gli aiuti vi dico subito gli aiuti alle babysitter è chi prima arriva prima si porta a casa i soldi che io la trovo una cosa fantastica così come fantastiche le due assunzioni di Palazzo Chigi la Mazzuccatto ne abbiamo già parlato l'economista che dice che lo Stato deve sostituirsi ai privati che mi sembra un'ottima idea di politica economica e l'altra di questo Gunther Paoli che io sono fissato e anche lo è con me Luciano Capone leggetevi oggi sul foglio la descrizione di Gunther Paoli vi dico soltanto una cosa lui dice la seguente cosa siccome il 5G c'era Buon e il 5G c'è nel nord Italia già due stronzate perché nel nord Italia c'è così come c'è anche a Pescara perché sono state fatte sperimentazioni in due posti diversi neanche sa le cose questo Gunther Paoli l'amico di Grillo pagato da noi contribuenti siccome il 5G c'è nel nord Italia dice e il 5G c'è a Buon e siccome il contagio c'è stato a Buon e c'è stato in Lombardia le due cose vanno insieme voi dovreste prendere vostro figlio e dirgli guarda quello che scrive Gunther Paoli e da grande cerca di non diventare come lui cioè questa è la correlazione noi paghiamo un signore come dice bene oggi Capone sul foglio che mette in relazione due variabili completamente scollegate per arrivare a una conclusione siamo alla follia così come la follia di Travaglio che oggi se la prende con la stampa Travaglio ogni giorno se la prende con qualcuno anch'io lo faccio e sono ben contento di farlo però in realtà io vi dico la verità con tutta l'irruenza che c'ho temo che non riuscirei nel giorno in cui è ricoverato Bertolaso a scrivere doveva cercare di creare dei posti letto invece ne ha occupato uno perché questa è una frase vergognosa è una frase che dovrebbe rimanere attaccata a Marco Travaglio per tutta la vita perché io mi auguro che si riprenda velocemente Bertolaso ma manca di umanità manca di civiltà manca di libertà manca di quello che noi consideriamo il bene più prezioso della convivenza civile cioè l'idea che siamo passati da Sparta ad Atene ecco questo non è chiaro a Travaglio e i suoi paesi sono sempre questa roba qua una cosa disgustosa come lo era lotta continua durante gli anni diciamo della guerra civile italiana se così la possiamo definire quella che godeva per la morte del commissario calabresi qui non è morto nessuno ma il principio è identico cioè il giornalismo di intinto nell'odio oggi l'odio è nei confronti della stampa che si è permessa di fare un toc toc come mai ci sono forze armate russe in Italia per portare degli aiuti si è semplicemente chiesto questa roba qua cosa che peraltro forse se ci fosse stato Salvini o Berlusconi al potere se lo sarebbero chiesto tutti ma siccome c'è Conte non se lo chiede nessuno oggi sono arrivati mi dice Maria Giovanna Maglia leggo su Twitter migliaia di aiuti degli americani tutti zitti e muti soprattutto perché non sono arrivati con i generali di corpo ad armata a differenza dei russi bene manca di cervello se non si era capito in diretta Conte sta facendo il riassunto della situazione benissimo vi lascio quindi a Conte e io vi lascio al mio sito e alle vostre considerazioni ciao